Valorizzare il patrimonio materiale ed immateriale passando non solo per musei, monumenti ed opere d'arte ma anche attraverso la conoscenza di aspetti storico-culturali, tradizionali, religiosi, artigianali e gastronomici coinvolgendo associazioni ed istituzioni scolastiche come realizzando una piattaforma interativa e digitale da rendere fruibili non solo ai turisti ma anche agli stessi cittadini. Questo il proposito del progetto Puglia in Rete, storia di una piattaforma web georeferenziata con app bilingue in italiano ed inglese. Il bando di gara indetto dal segretariato regionale per la Puglia del Ministero della Cultura è di quasi 2 milioni e mezzo di euro. La presentazione dello stesso è avvenuta a Bari. Abbiamo pensato a come ci sarebbe piaciuto che il nostro patrimonio ci venisse raccontato e quindi ci siamo messi nei panni di quello che sarà il fritore. E questo è stato pensato proprio con un'applicazione, una piattaforma interattiva e di coinvolgimento partendo da dei percorsi, delle narrazioni che sono soltanto dei, sono tante ma anche di stimolo e diciamo ampliabili e malleabili a seconda di quelle che sono le emozioni e quello che il visitatore proverà facendo questo volo nella regione attraverso questi grandi temi. Grazie. Grazie.